Ciao a tutti ragazzi, io mi chiamo Mario e ho creato questo canale per parlarvi delle sensazioni e delle paure di diventare papà Fare delle piccole pratiche guide per tutti coloro che stanno per diventare papà o che lo sono diventati da pochi mesi Non sono un pediatra, non sono un ostetrico, sono un semplicissimo padre Tutti i video sono basati esclusivamente sull'esperienza personale Che significa? Seguitemi Mi invito a iscrivervi e mi raccomando lo aspetto sul canale Ciao